Prove di normalità all'Università del Molise. In questi giorni tante sedute di laurea, ma anche tempo di bilanci per il periodo difficile appena affrontato, quello delle lezioni e degli esami a distanza. Il rettore Luca Brunese, prima di anticipare come sarà il prossimo anno accademico, tira le somme di quello che si chiuderà tra poco. Io credo molto all'Università in presenza. Il nostro esperimento online ha funzionato molto bene, forse perché i docenti si sono sentiti investiti in un nuovo ruolo, hanno risposto bene all'emergenza, quindi noi in qualunque momento siamo pronti a tornare all'online, ma la realtà è che per noi l'Università è in presenza. Le lauree sono andate bene, le sedute di laurea di luglio in presenza. Gli esami abbiamo consentito agli studenti per il mese di luglio di scegliere se farli in presenza o a distanza. Devo dire che circa due studenti su tre preferiscono fare l'esame in presenza, contrariamente a quello che si pensava all'inizio. Per il nuovo anno pensiamo a tante iniziative, ma di lavorare molto in presenza. Dunque, mentre si compiono gli ultimi atti prima delle vacanze, in Ateneo già si lavora per programmare la ripresa, una ripresa che obbligatoriamente sarà diversa dal solito, vista l'emergenza sanitaria in atto, a cominciare anche dalla data della ripartenza. È una grande scommessa. Diciamo che l'orientamento della conferenza dei lettori e soprattutto delle università grandi è di puntare sulla possibilità molto concreta di andare a distanza. Noi abbiamo una situazione diversa perché la regione, devo dire, è stata per fortuna poco interessata, o meno di altre regioni, dalla pandemia da Covid-19, perché la nostra struttura, che è organizzata su più strutture, su vari dipartimenti, ha degli spazi maggiori, altre aule abbiamo costruite e noi siamo pronti a partire in presenza e in sicurezza, quindi con percorsi separati per le singole corti di studio, ognuno nelle nuove aule distanziate, anche le nuove aule per i cento posti in medicina, c'è più di un metro di distanza tra uno studente e l'altro, quindi standard di sicurezza altissimi, perché per noi l'università è in presenza, la differenza con le università, diciamo, quelle alle quali una parte della popolazione ricorre perché non ha possibilità di venire in presenza, cioè quelle telematiche, è proprio questa, che noi saremo in presenza. È chiaro che se noi ci auguriamo tutti di no, dovesse succedere qualcosa di spiacevole in autunno e in inverno, ci faremo trovare pronti. Quest'anno cominciamo i corsi prima, il 21 settembre già partiamo perché io voglio utilizzare i periodi nei quali siamo più tranquilli dal punto di vista epidemiologico, temiamo tutti il picco di influenza che sarà, diciamo, non prima del 15 novembre e speriamo per questi due mesi di aver già portato a casa un paio di mesi di lezione in presenza.